8 miliardi di persone, un sistema agroalimentare, conflitti armati, cambiamento climatico, rallentamenti e recessione, disuguaglianze, rincaro dei prodotti alimentari, impediscono il progresso a molti, limitando il progresso per tutti. Il problema di uno solo si ripercuote su molti. La sostenibilità inizia dalle pari opportunità. Costruiamo un mondo con più cibo nutriente per tutti. Non lasciare nessuno indietro. Grazie.